Non è stata solo una conquista civile la parità di genere, ma anche e soprattutto un talento che, applicato all'ambito professionale, dimostra l'alta competenza del sesso femminile. Recentissime indagini effettuate in società a partecipazione pubblica, in cui sono impiegati dipendenti di entrambi i sessi, con le donne che ricoprono ruoli dirigenziali, hanno rilevato una maggiore produttività ed un conseguente rilancio dell'economia aziendale. Lo ha detto il professor Ugo Patroni Griffi, ordinario di diritto commerciale all'Università degli Studi di Bari e presidente della Fiera del Levante, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta al Nicotel di Biceglie e nella quale si è parlato dell'uguaglianza di genere nei processi di sviluppo socio-economico e culturale. Alla tavola rotonda, organizzata dall'Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Comercialisti ed Esperti Contabili di Trani, ha partecipato anche il Centro di Occupabilità Femminile della provincia BAT. Si tratta di un fenomeno globale che interessa tutti i settori della vita e per questo la diversità di genere, hanno detto tutti i relatori, va considerata come un valore e un punto di forza. Lo stabilisce la legge attraverso un ampio quadro normativo illustrato dall'avvocato Carmen Craca, esperta in diritto del lavoro, e lo prevede anche l'Unione Europea, come sottolineato dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe Di Miccoli. Oggi, per favorire il rilancio dell'economia impreditoriale femminile, c'è anche il Fondo di Garanzia, ma tante sono le politiche di genere che la dottoressa Tiziana Russo degli Stati Generali delle Donne ha invitato a conoscere.